Bisognerà attendere ancora qualche giorno per conoscere quale sarà il nuovo sindaco della città di Lanciano. Si andrà infatti al balottaggio il 17-18 ottobre fra i due candidati dei maggiori schieramenti, cioè Filippo Paolini, candidato di centrodestra, che ha riportato una percentuale del 49,77%, e Leo Marongiu, candidato sindaco del centrosinistra, che ha ottenuto una percentuale del 42,18%. Insieme a loro si candidavano anche Sergio Furia, del Movimento 5 Stelle, che si è fermato al 5,08%, e Ivaldo Rulli, candidato con la lista civica Rilanciamo Lanciano, col 2,97%. Filippo Paolini, candidato sindaco del centrodestra a Lanciano, più volte ha sfiorato la possibilità di vincere al primo turno. Alla fine si è fermato al 49,77%, con 9.981 voti. Mancavano pochissimi per avere la vittoria? Sì, dai conti che abbiamo fatto in realtà forse meno di 40, sono numeri effettivamente bassissimi rispetto ai 20.000 votanti. Certo, ci sono circa 500 schede più o meno annullate, vedremo, vedremo, insomma, a parte quello, comunque prendiamo atto dalla volontà degli elettori, ci prepariamo al ballottaggio. Ecco, come affronterà queste due settimane? Come abbiamo affrontato la nostra campagna elettorale, in maniera serena, tranquilla, con delle idee, con la voglia di vincere. Per quanto riguarda gli apparentamenti? Io ero contrario prima, il resto contrario anche adesso. Noi siamo una squadra coesa, siamo convinti di potercela fare anche al ballottaggio, la vittoria è sfumata per pochissimo al primo turno, i concittadini chiaramente stanno con noi, i risultati degli altri non ci interessano, andiamo avanti per la nostra strada. Pronto a giocare la partita di ritorno? Leo Marongi, un candidato del centro-sinistra, 42,18% delle preferenze, 8.459 voti. Pronto? Prontissimo. Non si esaurisce quest'ondata di entusiasmo e di passione. Abbiamo fatto il record storico di voti al primo turno, abbiamo portato la partita là dove volevamo, alla gara di ritorno, ossia a una partita che giocheremo faccia a faccia, io contro l'ex sindaco e ovviamente con tutti i lancianesi che ora saranno chiamati a scegliere solamente il sindaco della nostra città. Se andare avanti, guardare al futuro o fare un tuffo nel passato. Lei ha ottenuto 500 voti in più delle sue liste, motivo di soddisfazione? Questo è il termometro vero della città di Lanciano, ossia i lancianesi hanno apprezzato la mia candidatura a tal punto che mi hanno dato più voti rispetto a quelli delle liste ed è una spia chiara di quello che potrebbe essere il voto al ballottaggio. Noi siamo molto ottimisti perché è una partita che giocheremo a viso aperto, ringrazio i 20.000 lancianesi che sono andati alle urne, tutti quanti e in particolare gli 8.500 lancianesi che mi hanno dato fiducia perché ora saranno loro candidati al mio posto.